Sicuramente abbiamo dato delle risposte chiare dando anche dei riferimenti cronologici. Allora voi sapete che nella finanziaria regionale noi abbiamo inserito delle norme che sono in primis la risposta necessaria, doverosa, a quella che è la manovra di governo su tagli ai trasporti e quindi sono le norme di approccio a questi tagli la risposta regionale. Queste norme credo ne può andare orgoglioso l'intero sistema regionale abruzzese pur se inserite nelle finanziarie hanno avuto il conforto del voto di tutto il Consiglio regionale e tenete presente che stiamo parlando di norme che prevedono dei tagli. Questo è il frutto del lavoro dell'assessorato, della direzione dei trasporti, di tutti i nostri dirigenti e funzionari ma anche dell'importanza di quella che era stata un'intuizione, il tavolo permanente dei trasporti che ha elaborato insieme a noi quello che è stato il testo, poi approvato dall'intero Consiglio regionale e sono stati anche recepiti, e questa è la cosa bella, anche degli emendamenti del centro-sinistra che io ho ritenuto migliorativi anche di quello che avevamo fatto ma d'altra parte noi non avevamo fatto una norma completa. Tenete presente che abbiamo dato un indirizzo preciso. Il 30 aprile 2011 noi presentiamo entro il 30 aprile 2011 la proposta di RELGE sul riordino delle società che come avete già abbondantemente detto noi andremo a costituire una unica società su gomma e una unica società su ferro perché lavorando nei trasporti abbiamo ritenuto che questo sia il futuro tenendo anche presente quello che sta succedendo ad esempio in Lombardia e in altre regioni che sono più avanti nell'evoluzione trasportistica perché ad esempio in Lombardia è stata costituita una società fra Trenitalia e Lenord che sarebbe l'equivalente della nostra San Cristano. In questa norma che noi abbiamo fatto prevediamo un efficientamento dei servizi con una riduzione del 10% che stiamo trattando con le aziende pubbliche e private nell'ottica però della salvaguardia del pendolarismo lavorativo e studentesco del pendolarismo, questo è molto importante, delle linee operaie legacy Sevel e anche poi nella salvaguardia delle aree interne. Infatti proprio in questo mese ci sarà proprio un confronto fra le aziende per come andare poi ad eliminare quei rami secchi, quelle sovrapposizioni. È previsto, e anche questo va detto con grande chiarezza, un adeguamento tariffario che sarà il minore di tutte le regioni italiane perché noi abbiamo in questa norma stabilito un limite massimo del 10% e poi il sistema della bigliettazione sarà fatta con riferimento ai criteri ISE, quindi una diversificazione in base ai redditi. E questo sia un bel messaggio, tenete presente che a livello nazionale si stanno orientando per un aumento tariffario del 30% in alcune regioni, addirittura Lumbria, con una delibera di un mese e mezzo fa hanno previsto un aumento tariffario del 50%. Noi riteniamo di non arrivare neanche al 10%. Poi prevediamo, perché i tagli li devono subire tutti, perché è l'intero sistema, la riduzione del 10% dei compensi dei CDA di tutte le società di trasporti, prevediamo anche la riduzione del 10% per quei dirigenti che superano i 90.000 euro lordi che è il minimo contrattuale previsto dai contratti nazionali di lavoro per determinate funzioni e a salire un'ulteriore diminuzione, man mano che aumentano le retribuzioni, ma stiamo parlando di pochissimi dirigenti in questo ultimo caso, che possono andare dal 5 al 10%. Io sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto insieme a tutto il pool dei trasporti, di quello che è successo al tavolo permanente. Si diceva che avevamo creato un'altra struttura pletorica e che era inutile trattare con Roma per i tagli. Anche con il nostro contributo alla regione Abruzzo, i tagli sono scesi da 54 ad oggi a 23 e non disperiamo ulteriormente di farli diminuire. Il lavoro è stato proficuo, d'altra parte non si ottengono quell'unanimità se questo lavoro poi non viene concertato, ascoltato e non si dà anche voce alle varie stanze, indipendentemente da chi le pone. Oggi si può dire che è un momento importante. Il 34 noi presenteremo aprile una proposta di legge, noi proporremo quello che viene fuori dalle nostre idee, dal nostro lavoro e dalla concertazione con tutti i portatori interessi dei trasporti sul tavolo. Poi il Consiglio regionale sarà sovrano perché poi la legge la decide il Consiglio regionale. Dal 1 maggio si pagherà l'asse attrezzato a Chiedi Pescara? Allora questo è un fatto negativo, poi stiamo anche leggendo, voi sapete che noi avevamo affiancato anche gli enti locali in quella che era la proposizione dei ricorsi, poi sapete c'è stata la prima sospensiva, poi il Consiglio di Stato ha statuito invece sugli aumenti. In questo momento dobbiamo anche seguire le notizie che sono, che proprio oggi state dando dell'acquisto da parte di Autostrada dei Parchi di Toto. Dovremo chiedere un incontro, capire quali possono essere le cose migliorative, gli investimenti sull'infrastruttura e anche il futuro, o anche il cambio di approccio che deve avere la Regione Abruzzo. Però dobbiamo avere un'interlocuzione nuova, anche visto le nuove vicissitudini societari. Certo non è un fatto bello per l'Abruzzo, purtroppo non c'è interlocuzione regionale, sono scelte di livello nazionale, io ho sempre detto di essere contrario, lavoreremo comunque per far sì che questi aumenti, vedremo di scongiurarli, ma vedo una strada difficile, possano comunque portare delle migliorie, perché gli aumenti su una strada che non è consona ai criteri di migliore viabilità sono duri da digerire per tutti i cittadini e anche per quelli che lavorano, perché comunque la crisi è sotto gli occhi di tutti. Nell'ottica dell'austeria e dei dettagli, come si concede il fatto che in pianta organica la sangritana prevede altre aziende di assunzione? Allora, la previsione della pianta organica è una previsione tecnica, non c'è nessuna procedura di assunzione di alcunché in sangritana. Tutte le procedure delle aziende di trasporti dovranno essere correlate a quelle che sono le norme nazionali e europee e anche le norme che abbiamo approvato nell'ultima finanziaria, però ripeto, il Presidente Di Nardo è stato chiaro, non c'è nessuna previsione di assunzione da parte della sangritana. La pianta organica ha una provisione tecnica, poi è stata approvata con decreto presidenziale il 31 dicembre, avremo il documento in questi giorni, c'è stata la ripresa dell'attività lavorativa dopo i tre giorni di festa, proprio io oggi sono in regione regolarmente al lavoro, verificheremo se ci sono delle incongruenze a livello normativo e interverremo. Però ripeto, noi stiamo facendo un grande lavoro di grande sacrificio, qua non si assume nessuno in questa fase. Se domani otterremo magari con un consorzio con Trenitalia la possibilità di nuove linee, non credo che qualcuno si offenderà se magari serviranno 3-5 autisti. Però ripeto, questa forma di contrasto va risolta e sarà uno degli argomenti del tavolo dove ci confronteremo con la sangritana, con le altre aziende, con le pubbliche, con i sindacati che su questa cosa ho notato hanno posizioni diverse, ma saremo sobri e severi come al solito.